SON TRANQUILLO però mi girano i coglioni sono tranquillo dai che andiamo dai che andiamo dai che andiamo allora vediamo se ce la facciamo vediamo se ce la facciamo ragazzi ok 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 che sfiga del cacchio però che sfiga del cacchio però giochiamo un pochettino più tranquillo dobbiamo anche fare la missione di visitare i come si dice distributori di benzina sparsi nel gioco 3 in una singola partita ragazzi vi ricordo allora dovrebbe esserci un chest qua sotto e un chest la dietro non lo so com'è il nuovo pompa amico mio non l'ho ancora provato io non l'ho ancora provato allora qua rifugio ritirato non dovrebbe essere atterrato nessuno infatti guardando dietro di me non vedo proprio nessuno proviamo subito a scendere e vediamo se ce la facciamo 43 spettatori 43 like grazie raga grazie 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 ok allora pulita pulita bella lì il revolver vedi che c'è già il primo chest sento già il chest ok qua non c'è nessuno il vampa fucile easy easy ok ok vediamo due cesta addirittura due cesti la caraffa delle bevute tanta roba e qua c'è il secondo chest buono 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 ok direi che siamo messi molto molto bene ragazzi lasciare giù la mitraglietta che non mi interessa la farei così scusate ho sbagliato così 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 e così ok va bene va bene va bene vamos 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 allora revolver in mano perfetto vediamo se c'è qualcos'altro interessante siamo nella safe siamo nella ma cazzo l'ho visto l'ho visto bene così bene così ragazzi bene così andiamo a tirarlo giù andiamo a tirarlo giù pulito andiamo a tirarlo giù pulito allora via il vampa dentro il pompa ok perfetto 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 e qua ci siamo ragazzi ciao papà antonio ciao certo che lo saluto ci mancherebbe ciao allora dai che andiamo ragazzi dai che andiamo la prima è andata la prima è andata la prima è andata ragazzi the first kill is ok cos'è sta roba ci fanno quattro carrelli della spesa qua ragazzi gg grazie l'in ma perché ci sono quattro carrelli della spesa qua perché perché non so se il tipo aveva luttato per caso si aveva luttato la casa aveva luttato la casa diamogli un'occhiata giusto per sicurezza magari ha lasciato giù esatto una cassetta degli attrezzi ok good good ciao magic troll power non ci credo ha lasciato il chest lo sento lo sento ha lasciato il chest raga ok andiamo andiamo attenzione così andiamo a prenderci il chest un po' di legna prima un po' di legna per costruire ciao ragazzi e ciao a tutti grazie per essere qua a vedervi un po' di fortnite fra poco andiamo a giocare assieme no e mi sa che è sbagliato a costruire di là devo costruirlo di qua ok vamos 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 ok poi infatti benissimo di qua ok ok cos'è wow fucile d'assalto con mirino va bene non mi ricordo quanto tolga il verde questo toglie 23 questo toglie 31 prendiamo il verde prendiamo il verde assolutamente prendiamo i proiettili pesanti che sono quelli relativi appunto al fucile d'assalto ok aspetta un attimo aspetta un attimo ok bene così bene così ciao 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 ragazzi ciao eh ciao grazie a tutti mi raccomando se vi sta piacendo la live un bel like mi raccomando non vi costa niente non vi costa niente iscrivetevi al canale se ancora non l'ho avete fatto non peldo non ho messo benissimo non peldo chi è più forte tra me è ninja ovviamente ninja ovviamente allora dai che andiamo dai che andiamo ma io non sono forte ragazzi assolutamente non sono bravo bene così la caraffa delle bevute fammi dare un'occhiata uh come si è messi bene me ne vado al rifugio me ne vado al rifugio ragazzi me ne vado al rifugio dove avevo puntato al marker credo che non ci sia nessuno 101 di legna va bene va bene stiamo con il revolver che fa stramale ragazzi e andiamo ciao the mouse ciao grande grande che hai messo il like e ti sei iscritto no 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 non dire così io non sono assolutamente forte amico mio non sono assolutamente forte vamos vamos possiamo tirare giù intanto un paio di alberi ok abbiamo tre minuti tranquillissimi per andare ragazzi a luttare quello che ci interessa stando sempre nella parte esterna della mappa siamo messi veramente molto molto bene ragazzi stando esterni alla mappa siamo sicuri di avere il lato destro scoperto perché c'è il mare quindi non ci può essere nessuno noi andiamo avanti ragazzi ma ma non sono forte io sono tartaruga ninja guarda quattro tartarughe sempre pronte sempre allerta viva i ninja ninja per la pizza vanno pazze sai e rimango e le mangia sempre più che mai quattro tartarughe grande e forti come noi dill Campania vaya soit il gruppo dei ninja coraggio ci da grandi la mia infanzia la mia infanzia ragazzi cinquanta spettatori tutti a cantare le tartarughe ninja tutti a cantare chi non ha mai visto le tartarughe ninja ha avuto una infanzia trist dai che andiamo ragazzi dai che andiamo Sto fino alle 16 Luca Sto fino alle 16 Eh la so tutta la so tutta La song delle tartarughe ninja Ma stai scherzando Che partiva con una specie di strumento Che faccia E poi partiva Le so suonare tutte quelle batterie ragazzi Ho le canzoni dei cartoni animati Dai che andiamo Dai che andiamo ragazzi Dai che vamos Vamos sai la playa Quanto è vecchia l'anno Che cosa Che cosa stai dicendo Stai dicendo Oh Mi sembrava di aver visto qualcosa Un altro revolver E' goloso Ma mi tengo il mio Ma mi tengo il mio Non sono ninja Che gioca con due revolver Me ne tengo uno Me ne tengo uno Ok Easy 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 Saliamo le scalette Oh Nooo Nooo Bene così ragazzi Bene così Bene così Bene così Bene così Lol Lol Pronto Andiamo a curarci Andiamo a curarci Le kill easy Easy Allora andiamo a curarci ragazzi Con calma Con calma Lo scudino Lo scudino Altro che ne Valà valà Come no Come no Un po' di scildino Oh Alla sono giù le bendoline No ho sbagliato Sbagliato Fammi andare a prendere le bendoline Bene così Bene così Dai che andiamo Dai che andiamo Potrei anche abbassare ancora di un filo La sensibilità del mouse Non credo che mi troverei Così male ragazzi Allora con calma Con calma Ci vediamo queste Oh Allora con calma Con calma Le mettiamo qua Benissimo 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 ragazzi Sono molto messo bene Sono molto messo bene Rip Perché ho due pompa Ho sbagliato Gianno Ho sbagliato Dovevo infatti prendere le bende Al posto del pompa Si vede Che nella foga L'ho lasciato giù Vai vai Ancora un po' di Abbiamo 600 di legna Direi che Sono sufficienti Un po' di pietra Un po' di pietra Anche perché Adesso quando chiliamo la gente Gli fottiamo anche tutti i materiali Quindi ragazzi Vale la pena Ok Ok Ho solo un po' di pietra Volevo continuare di qua Ragazzi Grande Grazie Luca e Kikko Grazie Ciao Ciao Benvenuti alla live Benvenuti a live di fortnite Giorno dopo giorno Ragazzi Un po' di migliorie Si vedono Si vedono Allora Qua potrebbe già iniziare Ad esserci gente Quindi prendiamo Prendiamo solo un po' di pietra Easy Da dietro di qua Da dietro di qua Senza farsi vedere Senza farsi vedere Le munizioni Le munizioni della pistola Si perché ho la kill Ah buono Ho fatto una kill con la pistola E c'è la nuova missione Del pass battaglia 5 Che devo fare le kill con la pistola Ah già è vero Mi curo Mi curo Grazie ragazzi Grazie Grazie Adesso mi curo subito Datemi un secondino Allora vado a curarmi Ok Tutto pulito Tutto pulito La nuova arma Ancora no Jaffix La stiamo aspettando tutti La stiamo aspettando tutti Non è ancora uscita Non vedo l'ora Di provarla Allora Muro Non di mattoni Di legno Muro e scala Perfetto Muro e scala Ancora un po' di pietra Ancora un po' di pietra Bene così Bene così Dai Bene a cussi Bene a cussi Vamos 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 Vai in giro con il revolver Carica il revolver Bravo Questo è carico Attenzione Non si sa Ok c'è un Un'altra cassetta degli attrezzi Molto bene Molto bene Perfetto Perfetto Ragazzi Un'altra ancora Easy 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 Bene così Bene così Ok ok C'era un orso che suonava il sassofono Vai che andiamo Scusate se non vi sto leggendo la chat E raga Scusate Ma come tutti Che gioca senza manita Ma porco Quando io faccio le kill Belle Figarola Gli altri sono sempre quelli che sono nabbi Oh Mai che gli dite Bravo Che hai fatto Attenzione C'è qualcosa di blu sopra Non avevo lasciato niente di interessante C'è qualcuno in zona Che è passato C'è qualcuno che è passato in zona Però Con calma Abbiamo 125 di vita In totale Siamo mega vicini alla safe Io mi lutterei un pelo di pietra Mi lutterei un pelo di pietra Raga Così Giusto per avercela per dopo Abbiamo 3,32 di pietra In realtà Non siamo messi poi così male Possiamo solo dare un'occhiatina Magari sai Non hanno tirato giù Magari Cosa ne sai Spacchiamo di qua Spacchiamo di qua Ciao Davide Veloci Ciao C3 sei bravo Proprio una bravura di quelle Guarda Di quelle che proprio Dai che andiamo Dai che andiamo Giù ancora un po' di pietruzza Ancora un pelo Ancora un pelo Ok 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 Sempre in giro con Revoz Qua è tutto ok Qua è tutto ok Le granelle non mi interessano Anche questa Mi prendo anche questa Mi prendo anche questa Oh la safe Si sta muovendo Cazzo Si sta muovendo la safe Vai in safe Vai in safe Ma perché Perché Davide mi aveva anche chiamato la safe Mi aveva chiamato la safe Orco Giuda Siamo in 9 Siamo in 9 Orco Giuda Allora Allora Innanzitutto ci curiamo Innanzitutto ci curiamo 71 Andiamo a 75 Siamo in 7 Siamo in 7 Raga Siamo in 7 Attenzione 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 Allora Bene così Intanto vi chiedo sempre scusa ragazzi Se non vi sto seguendo proprio a pieno la chat Andiamo un'occhiata qua cosa c'è Vorrei anche vedere in realtà cosa c'è di qua Andiamo a dare un'occhiata anche di qua Oh qua Ok 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 Non abbiamo fucili dalla lunga però eh raga Non abbiamo fucili dalla lunga distanza Quindi siamo sulla montagna Vediamo di passare da qua Non vedo nessuno Sono un po' troppo esposto eh Sono un po' troppo alto ragazzi Guardalo là E' inutile O lo puscio O lo puscio un pochettino Buono che non ci hanno fatti niente Vediamo di stargli dietro Vediamo di pusciarlo un pochettino Quello là Se ce la facciamo ragazzi Vediamo se ce la facciamo Vado insieme Allora Dov'è il tipo? Non ho idea di dove si è andato Non so se è andato di qua o se è andato di qua No no credo sia andato di qua Credo sia andato di qua sicuramente Quasi sicuro Cambio un attimo Eccolo là Eccolo là Ok è la Minchia quanto è lontano Ok è lontanissimo Amen amen Questo è un bel posto per chiudere la partita ragazzi C'è la mongolfiera C'è la mongolfiera Vai Xyuder Andiamo a prenderci la mongolfiera Andiamo a prenderci la mongolfiera Tutta la vita Con calma però Con calma Ok viene giù di qua Abbiamo il fucile da caccia Lo potevo prendere questo Questo era per me Questo era per me Dai Bene così Via 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 Molto bene ragazzi Molto bene Attenzione Attenzione ragazzi Attenzione Lasciatemi concentrato Lasciatemi concentrato Scusate se non vi guardo raga Scusate Bende Allora Abbiamo il fucile a pompa Quello viola Mi va stra bene Il fucile da caccia E' molto interessante Il fucile da caccia Lascia perdere Lascia perdere Lascia perdere Lascia perdere Lascia perdere Ok Ok Guardalo là Guardalo là Guardalo là Guardalo là Guardalo là che entra Guardalo lì che entra Guardalo lì davanti Che entra Dov'è? Dove cacchio è? Dove cacchio è? E' lì eh ragazzi? E' lì? L'ho visto là davanti Più o meno a 107 No no Non mi voglio far sgamare Aspetta 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 che non mi voglio far sgamare E' lì Lo vedo che è lì Lo so che è lì Non è che non lo so Non è che non lo so Devo aspettare che si muova lui Devo aspettare che si muova lui raga Allora con calma Con calma Con calma Perché non ho preso il fucile dalla distanza Non ho preso A meno che non se ne sia già uscito ragazzi Arrivo eh Ciao Dado Buongiorno Dado Buongiorno Buongiorno Siamo messi stra bene ragazzi Siamo messi mega bene Mega bene proprio Di qua secondo me non passa nessuno Anzi 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 Minchia devo troppo fare una cosa Devo troppo farlo Non si sa mai Non si sa mai ragazzi Non si sa mai ragazzi Ok intanto abbiamo messo giù la trappola Intanto siamo mega protetti Qualora dovessero sedere Secondo me c'è ancora l'ala infame Secondo me è ancora l'ala infame Porco Giuda È ancora l'ala infame Siamo in quattro raga Siamo in quattro Con calma Con calma Con calma Non c'è fretta Non c'è fretta 38 secondi ancora No non gli lancio il razzo ragazzi Oh no la bendolina Sono a posto Sono a posto Siamo in quattro Se entra qualcuno da sotto Lo piglia la trappola Guardalo Guardalo Minchia zio Minchia come glielo vorrei tirare Questo rocket Minchia come glielo vorrei tirare È lì eh È lì la merda vagante Eh ma appena ti muovi Sei pieno di rocket Appena ti muovi sei fatto Sei fatto appena ti muovi Porco Giuda Tanto si stringe la safe adesso E credo che sia obbligato ad uscire lui Forse no Forse in safe anche lui Forse in safe anche lui Con calma Con calma ragazzi Con calma Con calma Con calma La safe si stringe Sono qua ad aspettarti Sono qua ad aspettarti Porco Giuda Se sono qua ad aspettarti Minchia appena esce proprio Esce proc Così Così Dai Xuderino Dai Xuderino Dai eh Dai raga Dai raga Con calma Con calma È dentro il camion È dentro il camion Non me ne frega un cacchio Non me ne frega un cacchio Non mi muovo da qua Non mi muovo Non mi muovo da qua Non me ne frega niente Ci devi solo provare ad uscire Ci devi solo provare Siamo sempre dentro in quattro ragazzi 65 spettatori Grandi raga Grandi Perché si fosse collegato solo adesso Mi raccomando Un bel pollicione in su Se vi sta piacendo la live ragazzi Iscrivetevi al canale Dai Siamo rimasti in quattro Ce n'è uno là davanti E devi uscire Ok è dentro il camion Eccolo Basta 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 rocket Basta rocket Basta rocket Sono fuori dalla safe Mi Con calma raga Con calma raga Sono ancora fuori Sono ancora fuori safe E' qua sopra Non sono in safe Qua si Qua sono in safe Credo No 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 Devo salire Devo salire Proiettili Attenzione Attenzione Sono al limite Della safe Uh Minchia un'altra trappola Attenzione 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 Sono in safe Sono in safe Ok Siamo in tre Siamo in tre Siamo in tre Siamo in tre Da lì non passa nessuno Io poi Devo vedere da qua Guardalo Che costru... Cazzo Si è costruito Questo Attenzione Siamo fuori safe Ancora Siamo ancora fuori safe Raga Eh deve uscire anche lui Deve uscire Siamo in due E' quello che c'è qua sopra E' quello che c'è qua sopra Raga Grande 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 Xjuder E andiamo E andiamo A prenderci La sesta vittoria Grande Grande E così E così Grande Xjuder La sesta vittoria